Con dei lunghi bastoni le squadre di pulizia tolgono via le preghiere che i visitatori vivano nelle fessure del muro del pianto. Un'operazione che si ripete due volte l'anno, una in primavera, ma questa volta il rito si è svolto con tutte le precauzioni anti-covid necessarie, mascherine protettive e guanti. Le preghiere in questo periodo non sono mancate, richieste arrivate da ogni parte in quella che alcuni chiamano la cassetta delle lettere di Dio. Potevano essere inviate anche per e-mail e poi posizionate tra le pietre. Quest'anno, più che negli anni precedenti, abbiamo ricevuto centinaia di migliaia di biglietti da tutto il mondo, da ebrei e da non ebrei, che non potevano venire al muro del pianto a causa del coronavirus. Nelle preghiere si chiede che la pandemia finisca. I bigliettini con le richieste a Dio vengono raccolti in dei sacchi sigillati e poi seppelliti secondo il rito tradizionale sul Monte degli Ulivi, perché i testi contengono il nome del Signore. Prima dell'arrivo in Israele della vaccinazione di massa, l'accesso al muro del pianto era consentito solo ai residenti della città vecchia di Gerusalemme. Adesso riammessi 500 fedeli per volta, divisi in gruppi di 19, separati da alti pannelli, distanziamento di due metri, l'obbligo di mascherina e non si dovrebbero baciare le pietre. I grandi blocchi di pietra bianca e quanto rimane dell'antico Tempio di Gerusalemme, distrutto nel 70 d.C. In quelle fessure quest'anno tante suppliche rivolte a Dio per i malati di coronavirus.